Avvio. Grazie per essere qui a questo secondo incontro sul tema della gestione del cambiamento nello studio odontogliatrico. Io inizio facendo un po' il punto delle cose che abbiamo detto l'ultima volta e che ci aiuteranno a riprendere un po' i fili di un certo tipo di discorso. Se vi ricordate l'ultima volta abbiamo parlato della distinzione fondamentale tra un sistema semplice e un sistema complesso. Abbiamo visto come il sistema complesso sviluppa una modalità di pensiero paradossale e questa modalità dove posso avere ragione io ma puoi avere ragione anche tu nasce in qualche modo da una realtà che è complessa. Abbiamo visto come l'ultima volta abbiamo parlato della quarta rivoluzione industriale e abbiamo detto che la caratteristica della quarta rivoluzione industriale rispetto alla prima rivoluzione, quella dell'invenzione del motore a vapore, la locomotiva, rispetto poi all'invenzione del motore a scoppio e poi del motore elettrico, questa quarta rivoluzione industriale ha una caratteristica che è quella appunto di non necessitare la presenza dell'uomo, cioè l'uomo non sta dietro la macchina. Questo crea sostanzialmente una realtà che abbiamo visto è complessa e che non necessariamente coinvolge il mondo dell'industria, quarta rivoluzione industriale, ma abbiamo visto che è qualcosa che coinvolge anche i servizi che sappiamo essere percentualmente la realtà più importante a livello di produzione di ricchezza nei paesi occidentali evoluti e anche nei servizi, in particolar modo nella dotatria abbiamo visto che attraverso l'intelligenza artificiale dove la macchina è in grado di trovare le soluzioni e di sviluppare le proprie regole senza l'aiuto dell'uomo, piuttosto che non alla robotica. La realtà aumentata, abbiamo visto, fa storia un po' a parte perché comunque prevede e coinvolge sostanzialmente l'essere umano, ma lo dota di un livello di conoscenza superiore alla realtà, ma in tutto ciò noi viviamo di fronte a quello che noi abbiamo definito essere un equilibrio tra il caos e l'ordine e abbiamo visto come non possiamo vivere nel caos e non possiamo vivere nell'ordine eccessivo, ma l'innovazione si posiziona da un punto di vista geografico a metà tra il caos e l'ordine. Trae le opportunità dal caos ed è in grado di trovare il filo della matassa e quindi trovare delle soluzioni o delle visioni che possono essere poi sufficienti per creare poi un ordine. Come funziona tutto questo meccanismo? Abbiamo visto che funziona attraverso l'apprendimento, l'apprendimento che, se vi ricordate, abbiamo parlato di un apprendimento filogenetico e ontogenetico, cioè un apprendimento che passa attraverso l'istruzione e abbiamo fatto riferimento all'etimologia instruere o struere, che è quello di mettere a strati, che è appunto un apprendimento che noi acquisiamo nell'ambiente sociale, dall'ambiente sociale che viviamo, all'ambiente anche professionale, e un altro tipo di apprendimento che è quello che abbiamo definito ontogenico e qui abbiamo utato il verbo educare, l'etimologia è exducere, cioè tirare fuori, cioè un apprendimento che nasce da una comprensione della propria modalità di comportamento. Abbiamo detto che una delle domande da cui siamo partiti è quella di chiederci se esiste un comportamento razionale, se comunque, all'ilà dell'aspetto caotico o dell'ordine, noi siamo in grado di identificare un comportamento razionale. Abbiamo visto che l'ultima volta abbiamo indicato Aristotele con l'etica nicopachea, che partiva dalla domanda perché sto facendo questo, perché sto facendo questo, e questa è una domanda che ha una connotazione in realtà profonda, etica, perché? Perché prevede un'intenzione, prevede un'azione e prevede il raggiungimento di un fine, e il fine appunto nasce da un desiderio che in qualche modo motiva la persona appunto all'azione. E quindi abbiamo visto che questo modello è un modello molto logico, dove abbiamo un punto A che è lo stato attuale e un punto B che rappresenta invece il punto di arrivo. Ma e quindi abbiamo visto che c'è un percorso, ci sono delle deviazioni di questo percorso, che non è un percorso lineare perché abbiamo visto che la realtà non è una realtà lineare ma è complessa, ma attraverso il controllo degli scostamenti noi siamo in grado di raggiungere il punto B. Tuttavia ci siamo resi conto e abbiamo condiviso che tutti noi abbiamo delle esperienze dove in realtà il punto B non lo raggiungiamo, ci perdiamo a metà strada in un percorso che diventa di per sé caotico e che non arriva al raggiungimento dell'obiettivo che ci siamo posti. E quindi la domanda che ci siamo posti è perché? A questa domanda ci siamo fatti aiutare dall'equazione di Tim Galway, e Tim Galway abbiamo detto che è un coach, un allenatore atletico, non è un coach di business, cioè un allenatore di elementi, ma lui era proprio un coach di giocatori di tennis e lui si è accorto appunto che in realtà in un match di tennis erano due le gare che si stavano svolgendo, una contro l'avversario e un'altra contro se stessi. Infatti questa equazione ci dà la P come performance, quindi la P come risultato, outcome, che è funzione di P minuscolo meno I, dove P minuscolo è il talento, il potenziale, è la conoscenza, è la competenza e I è l'interferenza, ma non è esterna, è l'interferenza interna, quello che noi abbiamo dentro e condiziona i nostri comportamenti. Bene, questo è un po' il motivo per cui noi abbiamo sviluppato da una parte il Navident Case Clinic Circle e dall'altra parte stiamo sviluppando i temi della gestione del cambiamento. Da una parte con il Navident Case Clinic Circle cerchiamo di lavorare sulle competenze, sulla conoscenza, perché la competenza, la conoscenza, le cosiddette skills sono fondamentali. È chiaro che più io ho la possibilità di apprendere e di conoscere qualsiasi cosa, perché l'ho studiata, maggiore ho sostanzialmente capacità di poter poi espletare quella cosa e ottenere un risultato. Però abbiamo visto, e questa equazione ce lo dice, che non è l'unico elemento. Un altro elemento molto importante è quello interiore, quello psicologico. Da cosa nasce, diciamo, un po' la storia di Tim Galway? Nasce dal fatto che, in realtà, se noi dobbiamo approfondire l'aspetto legata alla persona, in realtà la persona possiamo paragonarla a un albero, cioè possiamo paragonarla ad una parte che è visibile, il tronco, i rami e le foglie, ed è quello che è il comportamento di una persona. Ma c'è un'altra parte che invece è invisibile, e la possiamo confrontare alle radici di un albero, che giocano però, queste radici, un ruolo molto importante, perché noi sappiamo che comunque l'aspetto psicologico della persona gioca un ruolo molto importante. E infatti l'aspetto che abbiamo subito messo in evidenza è che noi ci pensiamo come individui, e la parola individuo, e l'etimologia della parola individuo sta per non divisibile, come persone che non sono divisibili, quanto in realtà possiamo immaginarci come tanti piccoli io e non come un unico io. E ciascuno di questi io è un desiderio, e ciascuno di questi io è in grado di catturare la nostra attenzione. Ecco perché noi, in qualche modo, per raggiungere i nostri obiettivi, abbiamo la necessità di qualizzare dei gruppi di io che si qualizzano, si organizzano intorno a un obiettivo e attraverso il controllo di questi io siamo in grado di orientare noi stessi verso il raggiungimento di un obiettivo. Quindi uno degli aspetti che abbiamo detto essere molto interessanti è quello di conoscere in qualche modo se stessi, conoscere come siamo organizzati internamente e come questa organizzazione interna condiziona i nostri comportamenti. In questo senso abbiamo detto che uno strumento che è molto utile è questo della MBTI, cioè Myers-Briggs Type Indicator. Questo MBTI è nient'altro che un'evoluzione di quello che è il lavoro che Jung, Carl Gustav Jung, come sappiamo tutti è lo psicologo allievo di Freud svizzero di Zurigo, che ha sviluppato la psicologia analitica e che in qualche modo scrisse un libro, Prima della guerra, i tipi psicologici, lavorando appunto sul tema di cercare di classificare le persone attraverso delle caratteristiche di tipo psicologiche e questo tipo di lavoro poi è stato sviluppato da Myers e Briggs che sono due signore allieve di Jung che negli Stati Uniti hanno sviluppato questo test e che viene utilizzato tutt'oggi negli Stati Uniti, è molto conosciuto più negli Stati Uniti che non in Europa, proprio per cercare di capire come funzionano le persone. Quindi quello che noi abbiamo fatto, abbiamo detto un'ultima volta, sostanzialmente abbiamo in qualche modo cercato di capire che cosa è questo MBTI e come si organizza. Allora, innanzitutto abbiamo detto che si organizza su quattro tipi di personalità di cui due sono le disposizioni naturali delle persone e altre due sono delle funzioni cognitive. Abbiamo detto che per quanto riguarda la disposizione della persona abbiamo identificato il tipo estroverso ed introverso, dove estroverso e introverso non necessariamente coincide con la spiegazione o la tipologia di informazione che noi utilizziamo attualmente, ma estroverso indica un'attenzione verso l'esterno e introverso non significa una persona misantropa o triste o chiusa, ma semplicemente una persona la cui attenzione è rivolta verso l'interno. Questa è una disposizione. L'altra disposizione è quella che il test chiama il tipo giudice, il tipo percettivo, dove per giudice si intende la persona organizzata, la persona puntuale, la persona che lavora seguendo delle regole e invece il percettivo è la figura in qualche modo più aperta alle esperienze, più aperta all'incertezza e più aperta alle novità. Queste sono quattro tipologie di disposizione caratteriale e all'interno ci sono appunto due tipologie cognitive. La prima è quella sensoriale e intuitiva, dove per sensoriale si intende una disposizione cognitiva che si basa sui sensi, quindi si basa attraverso una lettura della realtà di carattere oggettivo e quindi attraverso la propria esperienza diretta, mentre il tipo intuitivo invece è un tipo astratto, cioè un tipo che è una visione più d'insieme, una visione più, come dire, globale d'insieme, mentre appunto l'altra funzione cognitiva è quella del pensiero o del sentimento e cioè di chi prende delle visioni basate sul pensiero, quindi basate sul ragionamento, o chi prende delle visioni basate sull'aspetto invece emozionale. Questi sono appunto i quattro tipi e per chi di voi ha risposto al questionario, e io so che sette di voi hanno partecipato in modo anche molto simpatico e sportivo al questionario su Myers-Briggs, io ho avuto modo di elaborare i risultati e in qualche modo sostanzialmente li condividiamo. Allora, vediamo questa barra che si sposta o a sinistra o a destra per indicare il peso percentuale del valore estroverso rispetto all'introverso, quindi che cosa ho fatto io? Ho preso le sette risposte, le ho aggregate e ho in qualche modo fatto la media delle risposte e ottenuto quindi una serie di valori che rappresentano diciamo il gruppo delle persone che hanno risposto. Vedete, in questo caso il 51 per cento delle risposte che ho raccolto indica un tipo con una prevalenza di estroversione piuttosto che l'introversione, quindi una disposizione verso l'esterno piuttosto che non verso l'interno. L'aspetto invece sensazione e intuizione, come vedete, è a metà, al 50 per cento e questo è un aspetto interessante ed è possibile perché io vi ricordo per chi non ha compilato il questionario che si chiedevano, si facevano delle domande e queste domande poi ciascuno era libero di rispondere nel modo che intuitivamente di getto riteneva per lui più giusto e quindi il risultato che noi abbiamo ottenuto è un equilibrio tra l'aspetto sensazione piuttosto che l'aspetto intuizione. Dopodiché per quanto riguarda la modalità, e questo è un aspetto interessante, pensiero, sentimento, la maggioranza va verso il sentimento, quindi abbiamo un peso del circa il 37 per cento del peso e a complemento invece il sentimento. Per quanto riguarda l'aspetto giudizio percezione, abbiamo una maggioranza del 62 per cento verso appunto la disposizione, lo stile di vita, il giudizio. Abbiamo detto il giudizio è legato appunto all'aspetto organizzativo, il rispetto delle regole, la puntualità, l'atteggiamento diciamo rigoroso e sequenziale, mentre la percezione è un atteggiamento invece più aperto a all'incertezza, più aperto alle esperienze. Per cui quello che noi abbiamo ottenuto è, per quanto riguarda il gruppo delle persone che hanno risposto, una attribuzione ENFJ, questa identifica una delle 16 tratti della personalità e vedete io ho dato questo come diciamo quello rosso, ma perché comunque abbiamo un 50 per cento N e un 50 per cento S, quindi voi trovate la stessa diciamo classifica, organizzazione caratteriale, ma vedete al posto della N dell'intuizione c'è anche la sensazione. Questi sono i due tipi che escono fuori. Vediamo un po' insieme questi tipi. Allora, cosa sono questi tipi? Anzitutto c'è sempre un carattere dominante, un carattere secondario, terziario e represso. Vediamo che cosa significa. Allora, qui il carattere dominante, il tipo dominante, viene praticamente determinato da, abbiamo detto, le due disposizioni che sono l'estroversione, introversione, giudice, percezione. Quindi in questo caso si parte dall'ultima disposizione che è giudice, quindi è quella che identifica il carattere dominante che è quello appunto cognitivo, piuttosto che non quello della sensazione e quella in qualche modo della percezione che invece è controllato dall'aspetto appunto di percettivo, di P. Vedete che l'ultimo tipo era o giudice o percettivo. Il tipo giudice controlla la funzione cognitiva e il tipo invece percettivo controlla la funzione percettiva. Quindi siccome il gruppo ha una dominante di tipo giudice, il carattere dominante per quanto riguarda questo tipo è l'aspetto appunto legato a F, che è il sentimento. Abbiamo visto che il sentimento è l'elemento che comunque supera l'aspetto appunto invece pensiero e quindi il sentimento estroverso perché abbiamo appunto la E di estroverso che identifica questo tipo di carattere. Il sentimento estroverso è il carattere dominante del gruppo delle sette persone che hanno risposto a questo questionario. Esiste però un carattere introverso, cioè un elemento che non viene manifestato all'esterno ma che comunque è importante per l'individuo, che è legato, come vedete, all'intuizione, a questa N che è l'intuizione, che è introversa, quindi è comunque un carattere secondario però non manifestato esternamente. Poi c'è il carattere, diciamo, la funzione terziaria e quella repressa, che sono meno importanti. Se noi affrontiamo sostanzialmente il carattere, vi ricordate, al 50% sensazione intuizione, quindi noi abbiamo abbiamo una soluzione anche nel caso in cui prevalga appunto la modalità sensazione, dove qui in questo caso vedete il sentimento e il sentimento coincidono, quindi sono estroversi, ma la funzione secondaria non è più l'intuizione ma è la sensazione. Questi sono gli elementi che sono in qualche modo stati sviluppati dal questionario. Cerchiamo di capire e dare un attimo una logica a questa classificazione. Allora, inizialmente, la logica è quella dell'automobile con quattro passeggeri. La funzione dominante è alla guida ed è estroversa, quindi quella manifesta. Quella secondaria è il copilota. Invece possiamo immaginare la terza funzione, come l'adolescente che è presente all'interno dell'automobile e quella, ricordate, l'ultima, quella repressa, come sostanzialmente il neonato, cioè qualche cosa che ancora deve crescere e deve sostanzialmente svilupparsi. Quindi le due funzioni, quella primaria e quella secondaria, giocano un ruolo molto importante per l'individuo. Ecco perché ho detto che la terza è la repressa, o detta anche come ombra, è in qualche modo meno rilevante. Allora, cerchiamo adesso di dare una interpretazione di questi appunto tipi psicologici. Allora, eccola qua. Abbiamo la funzione SJ, che abbiamo visto essere presente, vi ricordate, in quella che è SJ, in questa rappresentazione c'è la S, che è la sensazione, e J, che è il tipo giudice, sostanzialmente sono i tradizionalisti, cioè delle persone che hanno, diciamo, un profilo più conservatore. Il gruppo degli NF, e ancora una volta questo gruppo l'abbiamo identificato, perché vedete abbiamo in questa rappresentazione NF, sono i cosiddetti idealisti. Poi abbiamo altri gruppi che non sono usciti da questa rappresentazione, che sono i cosiddetti concettuali e gli esperienziali. Allora, ancora una volta, questi aspetti che identificano, almeno i tradizionalisti e gli idealisti, le sette persone che hanno risposto al questionario, non devono essere visti, appunto, ancora una volta, come un elemento positivo o negativo, quindi non è che il tradizionalista è meglio dell'idealista, o che l'idealista è meglio dell'esperienziale, piuttosto che non viceversa, ma semplicemente identifica un tratto della personalità con la quale noi affrontiamo il mondo esterno e che ci può portare a un bias cognitivo, e quindi in qualche modo dobbiamo esserne consapevoli e coscienti, in modo da poter, in qualche modo, avere un ricordo di noi nel momento in cui affrontiamo e prendiamo delle decisioni. Qui, appunto, sostanzialmente, vedete, ci sono i 16 raggruppamenti che vengono sviluppati rispetto ai tipi Myers-Briggs e quindi noi ci concentriamo su ENFJ e ESFJ. Vediamo innanzitutto il gruppo ENFJ. Il gruppo ENFJ è il gruppo, così la parola, diciamo, definito in qualche modo, la guida. Quindi chi è il gruppo, chi è il personaggio che si trova all'interno di questo tratto, diciamo, della personalità? È un visionario che spesso agisce come catalizzatore nella crescita di una comunità e quindi in questo senso eccelle nel guidare gli altri verso il raggiungimento di risultati di interesse comune. Visionario che spesso agisce come catalizzatore nella crescita di una comunità, ha l'abilità di vedere il potenziale delle altre persone e possiede il carisma per guidarle a lavorare sulle sue visioni. Questo è, diciamo, in qualche modo identifica un gruppo ed è il gruppo Navident che comunque in qualche modo già un gruppo, come dire, in qualche modo con una certa tipo di personalità, un certo forma mentis, perché è evidente che c'è in chi utilizza il Navident una capacità di influenzare e di catalizzare l'interesse, aiutare e facilitare una comunità. E qui praticamente vedete il gruppo ENFJ e qui sostanzialmente questo è un po' la definizione che viene data nel gruppo e possiamo definirla come il consulente, cioè vedete ci sono una serie di carriere che sono identificate a questo gruppo, però appunto queste persone che condividono questo tratto della personalità sono persone che amano gli altri, energetiche, articolate, diplomatiche e che appunto eccellano in ruoli di cooperazione che comunque richiedono una articolazione espressiva e logica. E questo è il gruppo delle ENFJ e qui abbiamo alcuni, come dire, alcuni personaggi, no? Qui abbiamo Martin Luther King, a Goethe, Gesù Cristo, Mandela, cioè sono personaggi che in qualche modo amano le persone e che cercano di orientare le persone verso un certo tipo di risultato, di obiettivo. Il gruppo ESFJ è invece il cosiddetto procacciatore, cioè estremamente attento ai sentimenti, si prodica per aiutare gli altri, eccelle nel provvedere alle necessità degli altri, coscienzioso, sensibile, responsabile, estremamente attento ai sentimenti, si prodica per aiutare gli altri. Questo è, diciamo, l'altro aspetto che è uscito fuori dal questionario. Quindi vedete che all'interno di questo tratto della personalità c'è anche l'health care worker, cioè la persona che lavora nell'ambito della salute. Io in qualche modo ho dato una definizione che è quella del dentista comunicatore, perché è una persona gregaria, quindi estroversa, tradizionalista, motivata nell'aiutare gli altri, che gravita verso ruoli sociali che richiedono la cura e il benessere degli altri. Quindi questi sono, secondo me, molto interessanti, sono i due aspetti che sono emersi dal questionario e che in qualche modo identificano l'insieme delle sette persone che hanno risposto a questo questionario e che qui abbiamo dei punti di riferimento di personaggi di ESFJ, i cosiddetti famosi. Per cui se noi vogliamo ancora una volta trarre una conclusione e ancora una volta non c'è l'obiettivo di questo Myers-Briggs Type Indicator, non è quello di fare una gerarchia di tipi psicologici identificando quello che è migliore e poi quello che è peggiore, perché chiaramente ognuna delle sedici combinazioni di per sé è quella che comunque caratterizza l'individuo. L'obiettivo, come si diceva, è quello di dare un attimo di consapevolezza alle persone su quello che è la propria modalità caratteriale e quindi la propria modalità comportamentale che in qualche modo, abbiamo detto anche durante il primo incontro, deve essere in qualche modo flessibile perché è evidente che la flessibilità e non la cristallizzazione aiuta nel raggiungimento di obiettivi che cambiano in una realtà che abbiamo visto essere complessa. Quindi com'è l'aspetto evolutivo? L'aspetto evolutivo è quello, abbiamo visto, di raggiungere un buon equilibrio tra le proprie disposizioni estroversione, introversione e giudizio, percezione. Quindi questo è un elemento, una chiave diciamo evolutiva, individuale, cioè vale a dire la possibilità di equilibrare l'attenzione non solo verso l'esterno ma anche verso l'interno e il giudizio, quindi non solo la capacità di organizzare la propria attività in modo schematico, rigoroso e se vogliamo anche razionale, ma anche percettivo e cioè in qualche modo aprendosi a quello che non è al di fuori delle regole o a quello che è un'esperienza completamente nuova e completamente diversa. Altro aspetto importante è quindi quello di imparare a riconoscere i difetti e i pregi del proprio polo dicotomico preferito. Quindi abbiamo visto che il polo dicotomico per ognuna delle due funzioni cognitive principale e secondaria è in qualche modo rappresenta l'aspetto in qualche modo da osservare. Abbiamo visto che nel caso della ENFJ quindi l'aspetto dicotomico è dato dalla S e della F quindi l'aspetto sensoriale e l'aspetto diciamo in questo senso l'aspetto dicotomico è appunto legato all'aspetto per il sensoriale l'intuitivo e per quanto riguarda invece il sentimento l'aspetto dicotomico è il pensiero. Quindi capire quali sono i pregi e i difetti del proprio polo e quindi della sensazione rispetto all'intuizione e del sentimento rispetto al pensiero e quindi non preoccuparsi troppo delle funzioni meno sviluppate, le terze e la quarta, perché si equilibrano indirettamente lavorando sui primi due punti. Per quanto riguarda ecco la strategia del ponte, quello di entrare in sintonia, sicuramente noi ci sentiamo a nostro agio con le persone simili a noi, quindi è evidente che noi abbiamo delle preferenze cognitive comuni e che il fatto di avercele ci rende in qualche modo simili e vicini sostanzialmente alle persone che ci assomigliano. Però è anche vero che appunto siamo attratti da chi è diverso da noi, come se in qualche modo cercassimo attraverso la diversità di completare le nostre parti meno sviluppate o quelle che non abbiamo il coraggio di vivere fino in fondo in prima persona. Quindi questo è un aspetto importante perché questo in qualche modo può dare anche una chiave di lettura su quelle che sono gli interessi che noi abbiamo nei confronti di persone diverse da noi e che abbiano appunto dei tratti di personalità complementari rispetto ai nostri e in qualche senso ci aiutano a vedere, ad avere una visione più a 360 gradi rispetto alla visione che possiamo avere noi. Quindi questo è sostanzialmente la chiave appunto legata alla personalità e quello su quello su cui noi lavoreremo e noi applicheremo questa formula, la formula gestione del cambiamento, vale a dire affronteremo seguendo questo tipo di impostazione quella che è l'analisi della missione e della visione dello studio, cercheremo di capire e di sviluppare la strategia, una strategia di studio, identificare il piano di azione e poi fare un'analisi del valore generato. Questo è l'approccio che adesso cominceremo a seguire e come vedete c'è una freccia che riporta alla mission e alla vision perché chiaramente c'è un feedback che nasce dall'analisi del valore generato e che ci permette di poter criticamente modificare la nostra missione e la nostra visione sulla base del feedback che noi abbiamo ottenuto del valore che noi abbiamo appunto generato. Sulle tre domande su cui lavoriamo sono queste le tre domande il perché, il come, il che cosa, il perché lavoriamo appunto sulla missione e sulla visione, il come è la strategia dello studio e il che cosa indica il piano di azione, quello che noi materialmente possiamo andare a sviluppare a fronte di una visione, a fronte di una strategia ponderata. Quindi questo è lo schema di lavoro che noi seguiremo e che in qualche modo vuole essere una traccia di riflessione per coloro che sono interessati ad affrontare questo tipo di argomento. E quindi affrontiamo adesso questi tre aspetti. Allora, partiamo da questa frase che Dostoevsky nei Fratelli Karamazov ha scritto, sapete appunto Dostoevsky, il autore russo gigante della letteratura russa del XIX secolo, sostanzialmente il giacché il segreto dell'esistenza umana non è vivere per vivere, ma avere qualcosa per cui vivere. Quindi dare un perché che rappresenta in qualche modo una delle sostanzialmente delle motivazioni alla nostra esistenza è evidente un elemento importante. Questo elemento noi lo troviamo espresso molto bene da un autore che si chiama Simon Sinek, il quale è Sinek, appunto mette in evidenza come le persone sono interessate al perché tu fai un qualche cosa e il perché tu fai, il come, il che cosa tu fai, in qualche modo giustifica o semplicemente prova quello di cui sostanzialmente credi, quali sono le tue convinzioni, quali sono i tuoi valori, quali sono le tue aspirazioni. E quindi attraverso questo perché noi siamo in grado sostanzialmente di capire molto di una persona. Quindi se la persona risponde alla nostra domanda sul perché fa una cosa, e noi siamo in grado di ripeterlo questo perché più di una volta, due, tre volte, noi arriviamo sostanzialmente a conoscere quelle che sono le convinzioni profonde di una persona. Quindi questo del perché può aiutare noi stessi a comunicare agli altri, quando noi esprimiamo attraverso il perché la motivazione che ci spinge a un certo comportamento, aiutiamo gli altri a capire quali sono le nostre convinzioni, quali sono le nostre prese di posizione. E quindi sostanzialmente l'idea da cui partiamo è questa espressa da Jung, quella di cercare di capire sostanzialmente nella realtà che viviamo quali sono gli uomini superiori, quali sono i nostri punti di riferimento, quali sono i nostri modelli. E quindi ci domandiamo chi sono i nostri eroi, no? E quindi perché se noi stessi abbiamo sostanzialmente in mente chi sono i nostri eroi, siamo in grado in qualche modo di capire anche quali sono i valori e le cose a cui noi puntiamo e a cui crediamo. Qui vedete tre personaggi conosciuti, da una parte Alessandro Magno, questo è Paul Paolo Malou e questo, come sappiamo, è Steve Jobs. Qui io sarei interessato appunto a mostrarvi, perché questi sono personaggi che, come sappiamo, sono degli, tra virgolette, degli eroi, nel senso sono delle persone che hanno rappresentato un cambiamento, una discontinuità nell'ambito delle attività che svolgevano, no? Appunto Alessandro Magno, la conquista di tutto l'Oriente, fino all'India, a Steve Jobs, attraverso il cellulare, attraverso il Mac, quindi è in grado, sostanzialmente, di creare una discontinuità importante e tra questi anche Paul Malou, come sappiamo, attraverso l'All on 4, ha creato un elemento di discontinuità. Come nasce un movimento? Perché questi personaggi hanno tutti creato un movimento. Quindi la domanda a cui noi vogliamo dare una risposta è, pronto, come nasce un movimento? Io vorrei condividere con voi un video di 5 minuti in inglese, quindi magari faccio, magari ci sono alcune cose, le metto in evidenza anche in italiano, che ci spiega come nasce un movimento. In 3 minuti ci spiega come nasce un movimento. Vediamolo insieme, commentiamolo velocemente poi durante... ... ... ... ... ... ... ... ... ... a minute ted we talk a lot about leadership and how to make a movement so let's watch a movement happen start to finish in under three minutes and dissect some lessons from it first of course you know a leader needs the guts to stand out and be ridiculed but what he's doing is so easy to follow so here's his first follower with a crucial role he's going to show everyone else how to follow now notice that the leader embraces him as an equal so now it's not about the leader anymore it's about them plural now there he is calling to his friends if you notice that the first follower is actually an underestimated form of leadership in itself takes guts to stand out like that the first follower is what transforms a lone nut into a leader lui dice il primo cioè innanzitutto il leader e colui che in grado di essere messo alla berlina e il il primo follower e diciamo in realtà è un leader lui stesso perché quello che sostanzialmente è in grado di trasformare il leader la prima persona da pazzo perché chiaramente è da solo a muoversi come come una marionetta a in realtà un leader quindi il follower cioè la prima persona che segue il leader ha un ruolo molto importante come the second follower now it's not alone not it's not to not three is a crowd and the crowd is news so a movement must be public it's important show not just the leader but the followers because you find that new followers emulate the followers not the leader vedete che quindi praticamente da 1 2 a 3 follower e questi follower quindi queste persone che seguono questa persona strana che si muove come una marionetta di fronte evidentemente c'è un concerto in questo prato in realtà devono essere pubblici perché devono in qualche modo dare una visibilità e anche un riconoscimento al proprio leader come quindi c'è praticamente un tipping point cioè un momento in cui dal numero di persone che si uniscono si determina appunto il movimento vi ricordate che era una persona sola che ballava come la vediamo ancora in prima posizione poi ci sono queste due persone che seguono e poi c'è a questo punto il tip in point cioè il movimento delle altre persone che si aggiungono agli altri quindi quello che è quello che è molto interessante lui dice chiaramente che chi adesso si sta aggiungendo a questo gruppo rischia di meno perché chiaramente non c'è il rischio di fare la brutta figura o di essere magari interpretati come dei pazzi o delle lunatici delle persone che così abbastanza chiaramente il rischio più aumenta il numero delle persone più questo rischio diminuisce quindi la cosa lui dice adesso alcune lezioni da questo movimento il primo la persona che in quanto in qualche modo inizia il movimento ha un ruolo importante che quello di formare i propri follower e quindi di formarli come uguali non come appunto persone che stanno soggette a lui quindi l'altro aspetto importante è appunto che magari sicuramente la figura della persona senza la maglietta è una figura importante però evidentemente i followers e il primo follower rappresenta in realtà il personaggio che comunque dà credibilità al leader eccolo qua e quindi sostanzialmente questa è una rappresentazione interessante perché ci porta subito a questo personaggio che conoscete molto bene Branemark il quale è appunto il primo come sapete no one should die with their teeth sitting in a glass of water quindi nessuno deve in qualche modo morire con i denti che stanno dentro un bicchiere questa è la visione che Branemark negli anni 60-70 ha in qualche modo sviluppato e non tutti sanno che per più di un anno Branemark ebbe dalla Svezia dai colleghi svedesi la licenza sospesa perché sosteneva che partendo da questo perché il come che in qualche modo identificava che era l'uso del titanio e di una vita in titanio poteva rappresentare quindi la soluzione a questo tipo di problema questa soluzione come voi ricorderete qualcuno di voi sicuramente lo sa meglio di me fu completamente rifiutata addirittura il concetto di rigetto che ha continuato a esserci nella mitologia odontoiatrica anche relativamente recente veniva in qualche modo opposto all'idea che ci potesse essere invece un elemento come il titanio che invece si potesse integrare all'interno dell'osso dell'essere umano questa sua realtà quindi una realtà di opposizione ricevuta dai suoi colleghi quindi stiamo parlando dei colleghi svedesi lui era uno svedese quindi stiamo parlando di diciamo delle popolazioni una popolazione nordica europea che noi pensiamo essere illuminata e pensiamo di essere a un livello culturale più elevato rispetto al nostro ma in realtà si schierò compatta contro questa visione che ebbe vita durissima a imporsi e a svilupparsi poi la storia è storia e sappiamo com'è andato a finire qui voglio presentarvi altri due personaggi Scott Gans e Philippe Dardier i quali che io ho invece il piacere di aver conosciuto e di avere appunto amicizia con entrambi ho avuto la possibilità nel 2006 di conoscerli e questi due personaggi sono stati i primi a parlare di una chirurgia protesicamente guidata oggi parlare di una chirurgia protesicamente guidata non fa sostanzialmente tremare le ginocchia a nessuno ma vi garantisco io c'ero nel 2006 questo concetto era un concetto rivoluzionario da cosa sono partiti questi due? Scott Gans è un protesista, Dardier praticamente è un chirurgo francese che adesso lavora e vive a Dubai e Scott Gans lavora nel New Jersey beh loro erano partiti dal presupposto che i pazienti che entrano nello studio non sono interessati agli impianti, non sono interessati alle viti sono interessati al sorriso, vogliono questo risultato e quindi in qualche modo cercavano una soluzione per dare al paziente un risultato predicibile e quindi da qui è partita la chirurgia, la computer aided implantology quindi l'implantologia computer assistita ma all'epoca vi garantisco che era esattamente il concetto, era esattamente il contrario cioè che la chirurgia doveva essere osso guidata e non protesicamente guidata evidentemente c'era e c'era un indice referenziale che era interno e non era esterno cioè era il chirurgo che doveva decidere dove mettere l'osso e quindi il paziente doveva in qualche modo adattarsi alla realtà che aveva identificato il chirurgo orale invece sia Scott Gans che Tardier cambiano l'indice referenziale portandolo all'esterno cioè dando importanza al paziente e riportando alla volontà del paziente un risultato clinico questo cambiamento di indice referenziale è in realtà una rivoluzione ed è la rivoluzione i cui effetti noi stiamo vivendo ancora oggi perché quando il paziente entra nello studio, nel vostro studio e ha già la sua diagnosi e ha già fatto praticamente il suo piano di trattamento questo cambiamento sicuramente è figlio di internet ma è anche figlio di un'impostazione che ha cercato dal 2006 ad oggi di concentrare lo sforzo del clinico verso un risultato di predecibilità su un obiettivo e su una desiderata che non solo era funzionale ma anche estetica che partiva dal paziente anche qui immaginatevi c'è stata una bella guerra altro elemento importante è quello di Paolo Malò l'Olonfor e qui secondo me è molto interessante sentire da Paolo Malò come nasce l'Olonfor e io in questo senso vi faccio vedere questo filmato well we will speak about the the connelli protocol so why do we do this protocol first of all this system was developed to avoid bone grafting avoiding bone grafting è molto, molto importante, specialmente per i pazienti totali di dentali con diabeti o osteoporosi. Non vuoi fare le riconoscenze di maxillare con le sinusole bilaterali con un'ottima d'arte con osteoporosi. Quindi lui dice che il motivo per cui l'olonfor nasce è per evitare il bone grafting, cioè l'innesto osseo. Questa è la motivazione che ha spinto Malò a sviluppare l'olonfor. Lui dice che è molto importante perché su un paziente anziano fare un rialzo del seno, fare degli innesti ossei è qualcosa di negativo e non di positivo. Perché è negativo? Perché il tasso di successo è molto basso. Qual è quindi l'affermazione che fa Malò? Lui parte da Branemark e dice lui dice che nessuno dovrebbe morire con i denti in un bicchiere d'acqua ma lo aggiunge, quindi lavora sulla visione di Branemark e dice che nessuno dovrebbe vivere con i denti all'interno di un bicchiere di vetro. Quindi lui dice la qualità della vita delle persone anziane con cui si sono impegnate e hanno fatto crescere i figli è molto importante. Con una dentatura mobile questa qualità non viene raggiunta. Per il 30% dei pazienti anziani la possibilità di un innesto osso è impossibile perché mancano le condizioni fisiologiche per poterlo portare avanti. Quindi questo sistema diventato davvero una rivoluzione cambiando le livesi di pazienti ma anche cambiando le livesi di dentisti e puoi chiedere a tutti quelli che facciano. È molto importante anche di deliver una bella bianca ma non solo una bella bianca una bianca bianca una bianca bianca una bianca che può funzionare come un'attuale dentista anche resistente e, above all che il paziente può pulire facilmente. Nel paziente può pulire una bianca di 14 implanti è impossibile. La migliore bianca avrà un implanto e 12 occhi ma, infatti, non possiamo fare questo almeno oggi. Quindi lui dice che la cosa importante è avere quindi una protesi che non sia solo esteticamente valida ma anche funzionalmente valida ed è una protesi funzionalmente valida e quella che tu puoi curare poi in qualche modo con la profilassi igienica puoi mantenere. Evidentemente una protesi con 12 impianti è peggio di una protesi con un solo impianto se questo fosse possibile cosa che, chiaramente, nello stato attuale dell'implantologia non è ancora possibile. ricordate ricordate che abbiamo togliere il prezio della ricostruzione del tutto di dentista in modo che più pazienti possano farlo. Ci sono anche di fare semplice in modo che più dentisti possono farlo perché se più dentisti lo facciano il prezio anche diminuisce. Mi dimentico non sono qui in difesa dei dentisti sono qui in difesa delle persone senza denti di questo planeto. Questa è la chiusura importante di Paul Malou e cioè lui dice è importante che i prezzi vadano giù e che quindi più dentisti in qualche modo lavorino con questo protocollo perché in questi prezzi possano scendere perché lui dice mi dispiace ma io non lavoro per i dentisti io lavoro per i pazienti. Questo è diciamo Paul Malou e questo è diciamo da una parte il perché siamo partiti che nella misura in cui noi dobbiamo sviluppare una visione una strategia dobbiamo partire dal perché perché ci sono dei perché che sono assolutamente incredibili e che hanno avuto la possibilità di cambiare la storia ma anche la storia dell'ontuiatria abbiamo visto Branemark abbiamo visto Ganz abbiamo visto Tardier abbiamo visto Paul Malou e sono cambiamenti che nella sostanza sono stati effettuati e portati avanti partendo da una convinzione profonda che è stata in qualche modo utile per questi personaggi nel gestire una conflittualità che è naturale nell'ambiente in cui questa proposta viene a manifestarsi perché perché qui facciamo riferimento a Thomas Kuhn e al concetto del cambio di paradigma Thomas Kuhn in qualche modo identifica la strada della rivoluzione scientifica è una strada che parte da un periodo pre-paradigmatico dove c'è un'accettazione del paradigma questa è l'apprendimento filogenetico cioè questo è l'istruzione questa è la scienza normale ma poi c'è la scienza che nasce che nasce dalle anomalie dagli errori dai problemi della scienza normale e quindi dalla crisi del paradigma ma per riuscire a portare avanti la rivoluzione scientifica e quindi a portare poi la messa in discussione del paradigma occorre una convinzione profonda che sia in grado sostanzialmente di reggere quella che poi è il conflitto che nasce naturale e spontaneo quando un paradigma viene messo in discussione ma è un paradigma che chiaramente trova il supporto e diciamo la difesa di un numero molto importante di persone evidentemente chiunque tenti il cambio di paradigma si trova necessariamente in minoranza questo è un aspetto importante perché questo è un aspetto che chiaramente io vi invito e crea una riflessione la riflessione qual è? la riflessione è quella di immaginare voi stessi nell'ambito della vostra attività quello che appunto la Singularity University chiama Massive Transformative Purpose cioè uno scopo che sia massivo e trasformativo che significa massivo che sia audace e aspirazionale e trasformativo che possa causare una trasformazione quindi possa creare un cambio di paradigma è chiaro che non tutti sono come Paolo Malò come Branemark o come Scott Gunza ma è evidente che l'obiettivo e la visione eleva chiaramente l'orizzonte di riferimento e l'orizzonte di riferimento necessariamente in termini di innovazione in termini di cambiamento porta al cambio di paradigma al cambio di quella che è appunto la conoscenza l'istruzione o la scienza normale nei confronti appunto di una scienza rivoluzionaria una scienza che sia distruttiva rispetto a un ordine per esistenza di cose quindi sostanzialmente quale può essere un aiuto e una chiave per aiutare appunto i colleghi a sviluppare una visione quello chiaramente di fare quello che ha sostanzialmente per voi molto il più valore perché chiaramente siamo partiti dall'aspetto appunto della personalità e di come la personalità condiziona la visione delle cose e di come appunto attraverso la personalità e attraverso un lavoro interiore si possa arrivare quindi ad una visione che possa in qualche modo unire due cose che non solo la competenza la conoscenza tecnica ma anche il significato e lo scopo e quindi in qualche modo possiamo immaginare che questa equazione possa essere in qualche modo valida e cioè ciò che ha più valore e può in qualche modo coniugarsi con la passione di ciascuno di voi può portare al successo e quindi è evidente che esplorare testare differenti cose aumentare la propria competenza e avere la sensibilità di identificare quello che è il problema sociale più importante e qui richiamo le parole di Malou scusate ma io non lavoro per i dentisti io lavoro per le persone che hanno questo tipo di problema cioè che non possono avere in nessun modo un innesto osseo e quindi per loro ho sviluppato un protocollo che si chiama all on for e questo protocollo deve essere il più economico possibile in modo da facilitare diciamo la possibilità di poterlo utilizzare in diciamo in modo trasversale e deve essere chiaramente anche funzionale ed estetico quindi questo è l'aspetto importante e il fatto di poter esplorare e testare cose diverse rispetto alla propria indole rispetto al proprio carattere questo è un elemento che richiede appunto un'ulteriore riflessione l'altro aspetto importante perché noi andiamo in questa direzione perché è evidente che il risultato che è l'effetto nasce da un'azione che nasce da un pensiero e il pensiero appunto dall'intenzione e dallo scopo se noi diventiamo consapevoli del nostro pensiero delle nostre intenzioni e dei nostri scopi attraverso questa consapevolezza possiamo organizzare la nostra azione e renderla in qualche modo causa di un certo risultato se invece questo processo di consapevolezza non c'è oppure se l'intenzione o lo scopo che determina poi l'azione non è emozionalmente forte per noi e evidentemente noi ci troviamo in quell'immagine che abbiamo condiviso all'inizio dove il B non riusciremo mai in qualche modo a raggiungerlo quindi come facciamo è quindi importante avere sostanzialmente l'idea sostanzialmente di avere la consapevolezza che noi in realtà vediamo quello che in qualche modo puntiamo cioè noi pensiamo e crediamo di avere una visione a 360 gradi e cioè che abbiamo la consapevolezza di tutto quello che succede intorno a noi ma in realtà questa convinzione è un bias cognitivo e quindi in questo senso voglio in qualche modo vedere condividere con voi un filmato molto importante che è quello dei giocatori di basket è un filmato che adesso sostanzialmente io vi mostrerò di pochi minuti dove vi verrà richiesto ci saranno due giocatori due squadre di basket che si passano la palla quello che vi verrà chiesto è quello di contare i passaggi di palla e quindi poi facciamo una serie di riflessioni insieme il corretto è 16 passaggi di spazio spazio di chi non ho 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 If you knew about it, you probably saw it, but did you notice the curtain changing color, or the player on the black team leaving the game? Let's rewind and watch it again. Here comes the gorilla, and there goes a player, and the curtain is changing from red to gold. When you're looking for a gorilla, you often miss other unexpected events. That's the monkey business illusion. Learn more about this illusion and the original gorilla experiment at theinvisiblegorilla.com So, this test is a very famous test, which shows that when we focus on our attention on an object, we lose our attention to what happens around us. This means that maybe that object we can achieve, So, we know that there are 16 passages between the players with the black people, but we don't see the gorilla or the change of color behind the players. What does this mean? This means, and here in some way we mention the myth of the Caverna of Platone, where, as you can remember, there are people who look at the They are designed by a fire that are behind the real figures, brought up by people, and they confond on the reality, that they are designed by what they see on the wall, like the reality, when in reality, as you can see, the reality is in the outside of the caverna. It is not inside the caverna, but outside the caverna. The fact of being in the inside of the caverna and staying in the inside of the caverna, it brings people to believe that the reality is what they see when in reality, when in reality, Platone racconta with this myth that in reality, we are in some way succubi of a vision that is not that real. So, what does this mean? This is a phrase. I call it a little fuggish. I have been here in the east of the Cattedral to remind myself that we must always look at the things and the different angles and the world appears different from here on. Not you are convinced? Come on, come back to see you yourself! Courage! è proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva. Questa è la frase più importante, è proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva. Quindi noi abbiamo un tratto della nostra personalità che ci porta a vedere le cose in un certo modo, ma in realtà la realtà è diversa da quella che noi vediamo, perché siamo orientati su degli scopi che chiaramente ci condizionano la visione della realtà. Quindi la ricerca di quello che è lo scopo professionale che ciascuno di voi mette insieme professionalmente, come vedete è una ricerca molto importante, perché innanzitutto condizione il risultato attraverso l'azione e, secondo punto, è comunque uno scopo che può avere il rischio di confondere lucciole con lanterne. E quindi qual è una strada, una diciamo una via che in qualche modo io suggerisco e che chiaramente è presentata dal Presencing Institute? È quello dell'ascolto. Una delle chiavi più importanti è proprio quella dell'ascolto, ma esistono quattro tipologie di ascolto, non esiste solo un tipo di ascolto. C'è un primo tipo che è quello chiamato dell'educazione. Vedete qui noi siamo il pallino rosso e la linea nera è il nostro io, noi siamo all'interno del nostro io. Ascoltiamo, ma in realtà è un'abitudine, lo facciamo per abitudine, ascoltiamo gli altri per abitudine e per educazione. Poi c'è l'ascolto fattuale. Vedete il pallino da dentro questa linea nera si affaccia a questa linea nera, perché si posiziona su questa linea nera, ed è il dibattito. Cioè noi arriviamo a in qualche modo parlare di dati, parlare di evidenze e magari contrapponendoci rispetto ad altre persone, basandoci su dei fatti. E quindi sostanzialmente arriviamo ad affacciarci all'interno di questa linea nera, osservando il mondo. Poi c'è un terzo livello di ascolto, quello empatico. Vedete qui il pallino rosso è uscito dalla linea nera e si posiziona su un'altra linea e in qualche modo cerca di ascoltare dall'interno. Questo è il dialogo. E poi c'è l'ultimo sostanzialmente livello di ascolto, che è quello generativo, dove in realtà vedete questo pallino nero si perde intorno ad altri pallini rossi, il pallino rosso si perde intorno ad altri pallini rossi, che rappresentano la collettività e solo attraverso la collettività che nasce, secondo il Presencing Institute, la creatività. Quindi uscire dalla nostra torre d'avorio per in qualche modo generare qualche cosa di diverso e questo può avvenire semplicemente e solamente se noi in qualche modo siamo in grado di co-creare qualcosa insieme ad altre persone. Quindi in questo aspetto che sembra in qualche modo un po' astratto, si colloca invece molto bene nell'aspetto proprio clinico. Vedete noi abbiamo da una parte i pazienti e d'altra parte abbiamo i clinici. Allora vedete da una parte c'è il difetto, il problema, quindi il paziente magari chiede la soluzione e il clinico meccanicamente da questa soluzione, quindi il difetto viene riparato. Ma c'è un livello che mano mano scendiamo alla base di questo triangolo si fa ancora più articolato, perché vedete qui il paziente chiede una terapia, quindi lavora sul comportamento e in questo senso il clinico istruisce il paziente su un comportamento corretto e virtuoso che possa aiutarlo a risolvere un problema. Terzo livello è la riflessione, è il pensiero. In questo caso il clinico è un coach, quindi è un allenatore, non è la persona che meccanicamente risolve il problema, ma è l'allenatore mentale che permette al paziente di sviluppare un pensiero e quindi una riflessione. E poi c'è l'ultimo livello che Otto Scharmer chiama quello della midwife, dell'ostetrica, che porta al mondo qualche cosa di nuovo. E come riesce a farlo? Attraverso appunto la trasformazione del sé del paziente e quindi si lavora su quello che è l'essenza profonda del paziente e lavorando su quell'essenza il clinico è in grado di trasformare la vita del paziente. Quindi come vedete ci sono quattro livelli di comunicazione, di ascolto, ma questi quattro livelli possono in qualche modo tradursi da un punto di vista clinico in comportamenti molto diversi l'uno dall'altro. Quindi per esempio possiamo parlare del problema appunto della carie, dell'igiene, del trattamento delle opzioni di piano di trattamento, ma in ultimo possiamo parlare di qualità della vita ed è la qualità della vita di cui parla Malò quando lui parla che le persone anziane hanno fatto crescere i propri figli e hanno bisogno di qualità della vita, hanno bisogno di migliorare la propria qualità e la dentiera mobile non è la soluzione a quel problema. Ecco che lui si pone da un punto di vista clinico nel livello più basso di questo triangolo è come in qualche modo un midwife è in grado ascoltando il paziente, è in grado di creare qualcosa di nuovo, di generare qualcosa di completamente nuovo lavorando proprio su quella che è l'essenza trasformativa del paziente. Quindi il dentista in sostanza non lavora solo con le mani perché il dentista può e deve lavorare anche con dei livelli che sono chiaramente anche molto diversi. Quindi quali sono sostanzialmente qua ci stiamo avvicinando un po' alla chiusura, quali sono i punti che abbiamo in qualche modo messo in evidenza. Il punto è che all'inizio ciò che vuole emergere come nuovo si manifesta come sentimento, dopo c'è un senso di attrazione verso qualcosa. In realtà non è attraverso la logica e il ragionamento che nasce l'innovazione ma è attraverso il sentimento, attraverso quella capacità di ascolto del paziente che porta poi Malò a identificare come la qualità della vita e a dire, non come ha detto Branemark, non si può morire con i denti nel bicchiere ma non si può vivere con i denti nel bicchiere. Quindi l'aspetto emozionale è un aspetto molto importante. E poi c'è un senso d'urgenza verso fare qualcosa, ma non sai spiegarti esattamente perché. C'è un'urgenza che ti porta verso qualche cosa ed è un qualche cosa che tutto sommato, se vogliamo, è anche illogico. Perché? Perché tutti gli altri si comportano in un modo completamente diverso dal tuo. Tu invece ti stai comportando contro quello che la maggioranza delle persone fa e dice. Ma questo tuo comportamento non è un comportamento logico, perché la logica ti direbbe ma chi te lo fa fare, ma perché? Probabilmente gli altri hanno ragione, tu hai torto. No, è il sentimento, è l'urgenza verso qualche cosa che ti porta quindi a un certo tipo di comportamento. Solo allora, no? Quindi dopo aver attivato l'intelligenza delle mani e quella del cuore, l'intelligenza della tua testa incomincia a capire il perché. Quindi quando si arriva al perché, si arriva chiaramente a una risposta razionale, quella da cui siamo partiti parlando appunto di Aristotele, dell'etica nicomachea, cioè ma il perché, la risposta razionale, non è un punto di partenza, è un punto di arrivo. Prima c'è l'intelligenza delle mani, cioè dell'azione, e poi quella del cuore, e poi attraverso la testa si arriva ad articolare il proprio perché. E quindi sostanzialmente potremmo dire che il professionista deve trovare un equilibrio tra il do what you love e love what you do da una parte e dall'altra ascolta il cambiamento che il tuo universo vuole e mettiti al suo servizio. Cioè in realtà il professionista deve essere una persona che ha una capacità di ascolto importante riferita all'ambiente in cui vive e la capacità di mettersi al servizio di quel cambiamento. Quindi la domanda fondamentale è, esiste qualcosa per cui vale la pena di impegnarsi? nella tua attività professionale? Questa è una domanda importante. E quindi questa è sostanzialmente così un'affermazione che mi sento di scrivere, il valore di uno studio odontoiatrico è dato dall'insieme dei problemi che ha risolto. Ma questi problemi, abbiamo visto, non sono i problemi meccanici semplicemente, ma sono problemi che arrivano anche nella direzione di portare qualità nella vita dei pazienti. Quello che sostanzialmente io ho messo in chat e quindi io vi invito sulla chat di scaricare e un modulo, che è questo modulo qua, vedete c'è un mondo dentro e un mondo fuori e c'è un andare verso e andare via da. Vedete qui abbiamo il coniglio, va verso la carota, va via dal cane. Ma qui stiamo a un livello divisibile. Noi vediamo il coniglio andare verso la carota o vediamo il coniglio andare via dal cane. Quello che manca nel coniglio e che invece è presente nell'uomo è il mondo dentro, cioè i pensieri, le emozioni, le sensazioni fisiche. E quindi l'esercizio che io vi chiedo di scaricare è proprio questo, cioè l'esercizio è quello di partire dal mondo dentro, partire da quello che volete raggiungere, l'andare verso o quello che vi fa paura, l'andare via da, per riuscire poi a confrontarvi con quello che è il mondo di fuori, cioè il mondo del comportamento, delle azioni e capire e cominciare a riflettere se ci sono delle incongruenze rispetto a delle situazioni che in qualche modo potete in qualche modo sfruttare o mettere in qualche modo a riflessione. Quindi in qualche modo vi chiedo di utilizzare questo proprio per qual è l'obiettivo più importante che intendi raggiungere nella tua vita e metti da parte per il momento tutti i potenziali problemi, giustificazioni, cosa faresti se fossi assolutamente sicuro del tuo successo nella vita e quindi di arrivare a scrivere un obiettivo concreto in cui il raggiungimento significherebbe la realizzazione del tuo desiderio in un mondo perfetto, cosa vorresti essere in cinque anni, no? Quelle azioni concrete potresti intraprendere quest'anno o tra questo mese, settimana o oggi, quindi riuscire a fare un'inversione profonda su quello che è il vostro perché interno ed esterno e quindi capire un obiettivo concreto, coerente con il valore che ritenete essere per voi professionalmente importante, quindi tradurre quel valore in un obiettivo concreto da raggiungere. Questo era sostanzialmente la fine, vedete siano le 10 e 30 e siamo assolutamente puntuali come sempre nella chiusura dei nostri incontri e io accennerò semplicemente che durante l'ultimo incontro noi parleremo appunto di analisi del valore, cioè cercheremo, ci porremo un attimo una domanda e cioè come facciamo a misurare il valore che lo studio odontogliatrico sviluppa? Ed è una domanda se pensate molto complessa, no? Perché in realtà possiamo definirla in diversi parametri, cioè nel reddito, nella soddisfazione dei clienti, nella soddisfazione del cliente interno, nella competenza, nella conoscenza che lo studio ha. Ecco noi metteremo a fattore tutti questi termini e presenteremo appunto quello che si chiama il balanced scorecard che è un metodo che in qualche modo ha sviluppato Kaplan e Norton negli anni 90 che appunto analizza il valore di una qualsiasi impresa secondo quattro parametri fondamentali e vedremo questi quattro parametri fondamentali li coniugheremo all'interno di uno studio odontogliatrico. C'è il parametro finanziario perché evidente l'aspetto finanziario è una misurazione di valore però è una misurazione di valore storica perché ci dice quello che è successo ieri ma non ci dice quello che succederà domani necessariamente. L'altro aspetto importante è quello del cliente, del paziente in questo caso, quindi faremo un attimo una riflessione sul paziente, cliente. Analizzeremo i processi interni perché questo è il cliente interno, cioè è il nostro collaboratore, il nostro dipendente, quindi cercheremo di capire in che modo anche il processo interno misura il valore dello studio odontogliatrico e chiaramente affronteremo anche l'aspetto dell'innovazione perché l'innovazione, che abbiamo detto all'inizio di questa presentazione, si colloca a metà strada tra il caos e l'ordine e che comunque possiamo raggiungerla attraverso l'apprendimento è un elemento questo che chiaramente sarà oggetto di questa nostra ultima presentazione. Detto questo io ringrazio voi che siete stati presenti e pazienti fino adesso e chiaramente anche coloro che vorranno ascoltare questa registrazione.